no ragazzi non è una donna matura è una ragazza una bella donna matura ma cosa ti volevo dire ieri mi ascolti si ti ascolti vabbè comunque sia adesso ti vero a trovare a Milano dai bravo magari quando riaprono i ristoranti si certo oh dimmi una cosa però non ci provare che tu lo sai non ci provare mi fai scompisciare ascolta ho visto la diretta che hai fatto con Mazzoni ma l'ho vista poco cos'è che ti diceva? che argomenti avete parlato gli ho fatto io delle domande su cinema, storia, scienza, sesso anche piccanti del tipo minchia gli hanno fatta una parche a troia che non so come ho fatto neanche a trovarla devo mettere il telefono sotto carica che cos'è il fandom? che cos'è il fandom? cos'è il? fandom e che cazzo è scusa? vediamo che cazzo io non lo so non lo so non lo so non lo sa oppure oppure no dimmi fammi qualche altra domanda oppure l'altra è ancora peggio è ancora peggio che tipo di pratica sessuale è il trampling e non è Trump che si chiama sua moglie mi raccomando io sono molto tradizionale lo sai ma queste robe sono strane vedi che non lo sa nessuno cosa? non lo sa nessuno non lo sa nessuno comunque Vanessa gli eredi si fatta molto bella devo dire anche fisicamente sono sempre strane solo che adesso ho le chiappe più grosse quando stavo con te erano faccele va fammi vedere se ce le più grosse fammi vedere fammi vedere queste chiappe e faccele vedere dai abesca minchia sembra una pesca cazzo come una pesca ti sei fatta ti sei fatta altri tatuaggi ti sei fatta sì non lo so se già ce li avevo tre anni fa forse sì ma sono sempre gli stessi sì è vero me li sono dimenticati sì no sono sempre gli stessi già ce li avevo l'altro giorno ti ho fatto la proposta porca puttana se siamo andati su youtube siamo andati porca sì ho visto ho visto ho visto comunque raga per quelli che si sono collegati adesso gli Elena comunque sì lei siamo amici però lei è stata la mia fidanzata io gli voglio tanto bene è una ragazza veramente in gamba che rispetto molto perché nel momento di bisogno mi è stata vicina quando sono stata in carcere che tanta gente comunque semi critica che non sono stata in carcere però lei gli Elena è una ragazza veramente splendida in tutti i sensi ancora che raga non mi ha pagato porco diavolo fagli vedere le foto di quattro anni fa dai tirate fuori ma raga ma secondo sai che ho trovato delle lettere tue qua dai fagli vedere una te prego ce l'hai lì per lì no la vado a prendere falla vedere falla vedere falla vedere falla vedere raga ma secondo voi vado a pagare l'ex mia per entrare in diretta ma come cazzo state messi ma vi fa vedere le lettere mamma mia quanto state messi male raga è la mia ex sto due anni con lei cazzo mi vuole tanto bene però quando voglio ci torno insieme non è che c'ho un problema fa vedere fa vedere cioè assurdo fa vedere vediamo se si legge vedi queste sono le lettere che mandavo io agli Elena quando stavo in carcere fa vedere farle vedere bene fagliole vedere bene figlia le letterie sì che è un poema Fabio beh quando ti scrivo quando ti scrivo quando ti scrivo le lettere mi impegnavo molto mi impegnavo devo essere sincero sì è vero va bene anche le due tutte di un già queste due foglie già queste due foglie queste sono le lettere che mandavo io alla mia ex comunque ascolta mi ricordo che quando mi mandavi le lettere porca troia io sono in carcere tre anni mi ci mettevi il profumo mi ci mettevi vero mi ricordo lo facevo apposta io sempre raga sempre spruzzatina di profumo prima prima di scrivere siccome il profumo in carcere non si può tenere sai cosa ci spruzzavo l'infasil per profumare mica ma non c'è neanche la data di queste lettere vabbè intanto me la dimenticavo di mettere cosa ti volevo dire quindi che progetti hai con Mazzoni col Conte facciamo la diretta tutti i lunedì di tipo talk show divertimento gli puoi dire se vuole fare una diretta con me con te sì anche dirlo che gli voglio fare un po' di domande te prego tu parlaci di che Fabio vuole fare la diretta raga farò una diretta con come si chiama il Conte Mazzoni il Conte Mazzoni ragazzi quello che ha fatto la tua stessa a parte a parte tutta la simpatia ma anche una persona colta sì però ti posso dire una cosa tu lo sai a me le persone sono troppo colte che mi fanno quei discorsi tutti lunghi intellettali mi stanno proprio sul cazzo raga cioè tu lo sai come sono fatto i panni in vino cioè proprio sono molto spiccio spiccio lo sai va bene non è che non è che ti fa il poema però comunque devi una persona che sa rispondere sa parlare che ti che ti sta a bevo la tisana 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 naso e finocchio per il culo per la ritenzione ma non ho freddo sta ragazza non ho freddo perché in casa mia ci sono 24 gradi e mezzo 25 ma cosa ti volevo dire avevo freddo i capezzoli duri quindi adesso ti alleni a casa ti alleni eh sì ormai da tanto adesso appena appena mi arriva appena mi arriva la palestra qua a casa facciamola diretta insieme facciamo così almeno ci alleniamo insieme dai ci so per forza ok ragazzi mi raccomando trattatemela bene vi voglio bene Andalena ci sentimo ci sentimo dopo mattini ciao 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 Grazie.